Buonasera a tutti da Sud Ovest continua l'afflusso di aria molto umida verso il centro del continente verso la regione alpina. Oggi la nuvolosità era estesa sull'Europa centrale occidentale, sull'Europa orientale e sui Balcani invece il cielo appare sereno grazie alla presenza di una vasta zona di alta pressione. Le correnti da Sud Ovest manterranno un costante afflusso di aria umida favorendo la situazione di sbarramento sul versante sud alpino che durerà fino all'inizio della prossima settimana e domani l'attività della perturbazione presente sulla Svizzera dovrebbe di nuovo risultare più forte. In Europa invece avremo sempre cieli sereni all'est mentre il tempo sarà variabile su buona parte del centro e dell'Ovest del continente come pure sulla penisola italiana che saranno a tratti interessati da precipitazioni e temporali. Le temperature toccheranno valori anche al di sopra dei 30 gradi all'est mentre si abbasseranno sulla porzione occidentale dove saremo mediamente attorno ai 20-22 gradi. Tornando alla Svizzera domani mattina al nord il tempo sarà variabile con rovesci specie all'ovest sulle Alpi centrali mentre resterà asciutto il nord-est. Nel corso del pomeriggio poi rovesci e temporali localmente forti interesseranno tutta la Svizzera settentrionale. La domenica mattina sarà invece molto nuvolosa al sud delle Alpi dove avremo precipitazioni a tratti sia sul Ticino che sulle valli del Grigione italiano in Engadina. Precipitazioni che tenderanno a farsi più intense al pomeriggio ma che più a est lasceranno spazio a qualche schiarita nella seconda parte della giornata. Ed ora diamo assieme uno sguardo al quadro delle temperature previste per domani. Al nord le massime saranno stabili e saranno comprese tra 22 e 26 gradi mentre le minime saranno mediamente attorno ai 15-16 gradi. Nella Svizzera italiana massime in pianura attorno ai 20-21 gradi e tra 13 e 18 gradi in montagna. Inoltre lo zero termico sarà rilevabile domani attorno ai 3.500 metri su entrambi i versanti alpini mentre i venti saranno freddi, moderati e da su nelle Alpi e deboli e miti in pianura. Passando all'evoluzione al nord lunedì molto nuvoloso e a tratti precipitazioni all'est mentre all'ovest sarà più soleggiato. Martedì dapprima sempre molto nuvoloso e qualche precipitazione poi nel pomeriggio sono previste schiarite e da mercoledì il tempo si farà abbastanza soleggiato con nuvolosità più importante solo nelle Alpi. Al sud invece lunedì sarà in parte soleggiato con qualche rovescio, martedì variamente nuvoloso con qualche intervallo di sole e a tratti rovesci o temporali sparsi e poi finalmente mercoledì cieli in prevalenza soleggiati. E la settimana prosegue con un parziale soleggiamento al nord fino a venerdì poi sabato ben soleggiato mentre nella Svizzera italiana già da giovedì dovremmo poter godere di un bel sole e di temperature massime attorno ai 25 gradi. E chiudiamo come sempre con il quadro delle efemeridi. Io mi fermo qui e auguro a tutti voi una buona serata e una buona domenica. Arrivederci!